Musica Una solenne cerimonia si è tenuta oggi, 4 novembre, per la commemorazione dei caduti, in ricordo dei sacrifici di tante vite spezzate a difesa della patria, anche a Piedimonte Matese, dinanzi al monumento dei caduti. Presente la banda del liceo musicale Galileo Galilei di Piedimonte Matese, che ha intonato il piade. Il discorso commemorativo è stato tenuto dalla vice sindaca Bernarda De Girolamo, su delega del sindaco Vittorio Civitillo. Il discorso ha saputo richiamare l'attenzione dei tanti presenti, delle autorità civili, dei rappresentanti delle forze dell'ordine e delle forze armate, sull'importante ruolo della diplomazia nella risoluzione dei conflitti in atto. Presente, come ogni anno, l'Associazione Combattenti e Reduci di Piedimonte Matese, presieduta da Lino Diana. Grazie a tutti.